La scossa significativa di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 19.51 con epicentro nell'area dei campi flegrei. Successivamente si sono verificate almeno altre quattro scosse, la più intensa delle quali di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 20.10. Il terremoto è stato chiaramente avvertito non solo nell'area flegrea ma anche nel centro di Napoli e in diversi quartieri periferici, spingendo molte persone a uscire in strada per la paura. L'ultima scossa, quella di magnitudo 4.4, è stata percepita non solo nelle zone collinarie centrali di Napoli ma anche nei comuni limitrofi come Casavatore, Giuliano in Campania e Afragola.